La guerra sfigura i legami tra fratelli, tra nazioni, sfigura anche coloro che sono testimoni di tale atrocità. La guerra lascia sempre un segno indelebile. È uno dei passaggi del discorso del Papa e partecipanti al quarto corso di formazione dei cappellani militari al diritto internazionale umanitario, organizzato dalla Congregazione per i Vescovi, Dei di Casteri, della giustizia e della pace e per il dialogo interreligioso. Francesco ricorda l'intensificarsi della violenza in Africa, Europa, Medio Oriente, la terza guerra mondiale a pezzi e la necessità di sanare le ferite spirituali di chi, tra i militari, ha assistito a crimini atroci. Il ruolo del cappellano militare, afferma, è quello di accompagnarli e sostenerli nel loro cammino, offrendo il balsamo della parola di Dio che lenisce i dolori e infonde speranza. Nel contesto della guerra disumanizzante, evidenzia il Papa, il diritto umanitario intende salvaguardare i principi essenziali di umanità, proteggendo i civili, il personale sanitario religioso, i feriti e i prigionieri. Un diritto che intende bandire le armi, ma che necessita di ulteriori sviluppi di fronte a strumenti di guerra, sempre più micidiali. Infine l'invito ai cristiani, chiamati a dire loro no ai conflitti, ad impegnarsi nella costruzione di ponti che uniscono, a trovare spiragli per la mediazione e la riconciliazione, a fuggire la tentazione di considerare l'altro un nemico da distruggere. Poi la richiesta ai futuri cappellani di essere uomini di preghiera, perché senza non si può fare tutto quello che l'umanità, la Chiesa e Dio ci chiede in questo momento.